Benvenuti e ben ritrovati, apriamo il nostro TG Sud con la notizia del giorno che ci porta a raccontarvi di questa motrice con rimorchio che è finita fuoristrada al 9 km tra Pizzolungo e Bonagia. Un mezzo pesante è finito sugli scogli, vediamo. Erano da poco passate le 8 del mattino quando un camion carico di pietrame ha abbattuto il guardrail lungo la strada provinciale SP20 finendo sugli scogli nella zona che ai Trapanesi è nota come 9 km. Incidente spettacolare ma, per fortuna, è rimasto totalmente illeso il giovane conducente che è uscito dalla cabina autonomamente senza neppure il bisogno dell'aiuto dei primi automobilisti e dei soccorsi. Scattato l'allarme sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale di Edice. Traffico a rilento sulla provinciale Trapanesi e San Vitolo Capo è un altratto tra Pizzolungo e Bonagia, soprattutto a causa dei curiosi che rallentavano per osservare l'incidente. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto in maniera autonoma senza coinvolgimento di nessun altro mezzo. Il camion, una motrice con rimorchio carico di pietrame appartenente a una ditta privata che opera per conto terzi con le aziende del settore marmifero ed estrattivo, si è ribaltato sugli scogli e sembra si sia fermato senza cadere in mare proprio grazie al carico che lo ha bloccato sul costone a dirupo con gli scogli a fare da cuneo. Appaiono complesse le operazioni di rimozione del mezzo fissate con inizio alle 14.30. Con molta probabilità la strada sarà bloccata in entrambi i sensi di marcia per consentire l'intervento. Sarà necessario, in prima istanza, separare la motrice dal rimorchio, quindi operare per il sollevamento dell'una e dell'altra. Operazione tutt'altro che semplice e che comporta anche qualche rischio. La ditta proprietaria del mezzo ha anche chiesto all'assistenza dei vigili del fuoco che, però, non sarebbero autorizzate a interventi di questo tipo, neppure in affiancamento e sebbene il mezzo si trovi sugli scogli, di fatto sul demanio marittimo. E questa era appunto la notizia del giorno. Tutte le altre, tra poco, con la prima edizione. I titoli di oggi più richieste di mutui in Sicilia. Trapani è seconda, un indicatore economico importante che segna la tenuta, se non addirittura la ripresa del mercato immobiliare. Invito a cena con furto, denunciato dai carabinieri un trabanese di 27 anni, avrebbe invitato a cena un amico extracomunitario e poi lo avrebbe derubato di soldi, documenti ed anche di una bicicletta. La comunità di San Vito si divide sul porto, votate dal Consiglio Comunale le nuove linee guida per il piano regolatore del porto, c'è però una parte della popolazione che si costruisce in comitato e che le contesta. Agro e ricino in festa, parliamo dello sbarco della Madonna di Custonaci, ieri a Custonaci, oggi i primi vespri invece ad Elice. Per lo sport, decimo capitolo ed è solo l'inizio, parliamo della Palla Canesso Trapani che ha presentato la campagna abbonamenti della stagione 2022-2023 con uno slogan che guarda al futuro. Ritorniamo con l'approfondimento sulla nostra personalissima analisi di redazione sulla politica all'assalto dei partiti nazionali, l'abbiamo intitolata. Vediamo che succede per quanto riguarda la ripresa economica, soprattutto del mercato immobiliare, c'è Trapani che è seconda per richieste di mutui e questo significa tanto perché nonostante la crisi che aggredisce le economie familiari in Sicilia, il mercato immobiliare sembra muoversi. Vediamo. Aumenta l'importo medio richiesto dai siciliani per un mutuo di acquisto per la casa, nonostante il 2022 sia stato caratterizzato da un aumento dei tassi di interesse. L'analisi è stata elaborata dai portali specializzata Facile.it e Mutui.it su un campione di 24.000 richieste di mutuo raccolte nell'isola. Nei primi sette mesi del 2022 le richieste dei siciliani hanno puntato a ottenere in media 115.208 euro, vale a dire l'1,5% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si punta però di nuovo al tasso variabile, quando fino a pochi mesi fa 9 richiedenti su 10 puntavano al tasso fisso. Le richieste di Mutui a tasso fisso nel mese luglio sono calate del 28% del totale, mentre la quota di quella a tasso variabile si è attestata intorno al 41%. La durata media dei Mutui è salita a 24 anni, era 22 lo scorso anno. In calo invece il valore degli immobili oggetto di mutuo, sceso a circa 157.000 euro, il 5% in meno. Guardando alla richiesta dei Mutui a livello provinciale emerge un andamento differenziato. La provincia che nei primi sette mesi del 2022 ha registrato l'aumento più importante è quella di Ragusa, dove l'importo medio richiesto dagli aspiranti mutuatari è cresciuto del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2021, stabilizzandosi a 107.427 euro. Seguono nella graduatoria Trapani, seconda, che ha registrato un aumento del 5,2%, 112.334 euro. Poi Siracusa con un 5% netto, Messina 2,2% in più, aumenti sotto la media regionale per Agrigento, più 1% e Catania, più 0,5%. Mentre a Palermo l'importo medio richiesto, 123.394 euro, è rimasto sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno. In valori assoluti, la provincia di Palermo è quella dove, in media, si sono chiesti Muti di importo più elevato. Caltanissetta, quella dove la richiesta media è stata più contenuta. Andiamo alla cronaca, in vita, accena un amico e lo deruba chiedendo soldi poi per restituirgli quello che gli aveva preso. Un trapanese è stato denunciato. È stato denunciato dai carabinieri della stazione di Trapani un 27enne trapanese con precedenti penali per furto aggravato, tentata estorsione e in debito utilizzo di carta di credito. L'uomo avrebbe invitato perso la sua abitazione con uno stratagema un amico per bere qualcosa insieme e, considerata la tarda ora, le avrebbe proposto di rimanere a dormire. Al suo risveglio, però, lo straniero non ritrovava più il portafoglio contenente la somma contante di 550 euro, carta di credito, permesso di soggiorno e documenti vari, oltre che la sua bicicletta elettrica parcheggiata nell'entrata dell'abitazione. Successivamente contattato dal 27enne che gli avrebbe storto la somma di 60 euro per la restituzione della carta di credito e del permesso di soggiorno, la vittima ha denunciato l'episodio a militari che hanno avviato una perquisizione al casa del 27enne recuperando i documenti oggetto del furto e il portafogli senza la somma contante. Nelle analisi della lista dei movimenti della carta di credito sono emerse transazioni per l'acquisto di alimenti alcolici e vestiti. Ancora cronaca, due arresti e sei denunce e il bilancio di un servizio di controllo del territorio eseguito dai carabinieri di Trapani. Due arresti e sei denunce e questo il bilancio di un servizio di controllo del territorio eseguito dai carabinieri di Trapani. In manette un 35enne trapanese con precedenti di polizia in atto sottoposto alla misura dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Si sarebbe allontanato arbitrariamente e senza alcun motivo dalla propria abitazione venendo rintracciato poco dopo per le vie della città. Altro soggetto è stato arrestato in quanto colpito da una ordinanza di aggravamento di pena emessa dalla sezione penale della Corte d'Appello di Palermo con la quale è stata sostituita l'attuale misura con quella più afflittiva della custodia a cautelare in carcere. Si tratta di un ericino di 34 anni che più volte è stato sorpreso dai carabinieri fuori dalla propria abitazione in totale violazione di quanto imposto dal giudice. Un 22enne di Trapani invece è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere in quanto a seguito di perquisizione personale è stato sorpreso con addosso un coltello a serramanico di genere vietato. Un 25enne gravato da diversi precedenti di polizia è stato poi denunciato per aver violato più volte gli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale cui è sottoposto, allontanandosi dalla propria abitazione negli orari in cui era obbligato a rimanere in casa. Durante i controlli alla circolazione stradale, due uomini di 44 e 19 anni sono stati sorpresi alla guida delle loro autovetture sprovvisti di patente di guida in quanto revocata in precedenza con reiterazione nel biegno. Altri e tanti soggetti poi sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico non consentito e quindi denunciati per guida in stato di ebrezza. Nel corso dei controlli infine sono state segnalate tre persone alla prefettura trovate in possesso di modica quantità di stupefacenti. Adesso spazio all'info elettorale. Prima vediamo lo sacchetto. Il presidente regionale del Partito Democratico Antonio Ferrante che è candidato all'uninominale alla Camera per il collegio di Marsala assieme al candidato al Senato Stefania Marascia e a quello del proporzionale Gianluca Nuccio ieri hanno deciso di aprire in maniera molto simbolica la loro campagna elettorale per le politiche del prossimo 25 settembre. Sono andati a Pizzolungo per deporre un mazzo di fiore davanti al monumento che raffigura Barbara Rizzo e i suoi gemellini Giuseppe e Salvatore Asta. Un gesto più che simbolico. Ascoltiamo Antonio Ferrante. La lotta alle mafie, la legalità è il punto di partenza e deve restare il punto di partenza in questo territorio. Noi abbiamo pagato in questi anni prezzi troppo alti in termini di vite umane, di servitori dello Stato ma anche in termini di arretratezza economica alle mafie. La lotta alla mafia non può assolutamente non essere una nostra priorità. Abbiamo deciso di cominciare da qui per lanciare il messaggio in questo luogo in cui purtroppo una mamma, Barbara Rizzo e i suoi due bambini, Salvatore e Giuseppe persero la vita in un attentato che doveva uccidere un magistrato e il giudice Palermo da qui noi rafforziamo e rilanciamo la lotta alle criminalità che sarà il primo punto perché da lì si può rilanciare l'economia di questa terra. Non avremo pace fino a quando tutte le mafie non saranno sconfitte. Noi pensiamo di vincere. Sappiamo quello che ha combinato Musoneci in questi anni. Sappiamo che sta portando Schifani che tendenzialmente sta venendo qui in pensione dopo anni a Roma. un siciliano che per la Sicilia non ha fatto nulla. Noi siamo sicuri che la Chinici possa essere un'ottima alternativa al malgoverno di Musumece e quindi siamo convinti di vincere anche alle regionali. Adesso ci fermiamo tra poco tutte le altre notizie. Adesso parleremo di questa protesta della comunità di San Vitolo Capo per il regolamento, per il piano regolatore del porto. Poi la festa della Madonna, ieri Pustonaci e oggi c'è Erice in festa, quindi un po' tutto l'agro ericino. Infine voce allo sport con la campagna abbonamenti della stagione 2022-2023 della pallacanestro Trapani. Ma intanto andiamo a San Vitolo Capo. Il futuro del porto divide parte della comunità e dell'amministrazione comunale. Approvate le linee guida del piano regolatore portuale che però non piacciono al comitato No Marina Resort. Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, oggi ci ritorniamo. Il consiglio comunale di San Vitolo Capo approva l'atto di indirizzo della giunta sul nuovo piano regolatore del porto, scatenando le proteste del comitato No Marina Resort che contesta le linee guida. Durante il consiglio, si legge in una nota del comitato, il sindaco ha ritenuto di raccontare le sue mezze verità leggendo la parte ammaliante della delibera. Ha parlato tanto di sostenibilità, integrità del patrimonio economico e naturalistico, di ricchezza e futuro. Guardandosi bene però dal chiarire come questi concetti possano coesistere con le funzioni del Realizzando Porto, dichiarate nell'atto di indirizzo, ovvero quelle di aprire l'infrastruttura al potenziale sovraccarico di traffico marittimo in termini di idrovolanti, metropolitane del mare, taxi marittimi, tutti natanti di grandi dimensioni. Previsioni che nel 2022 appaiono completamente scollate dai tempi e dalla realtà di delicato equilibrio ambientale del territorio. Il comitato inoltre contesta l'iter procedurale. Alla luce dell'importanza dell'argomento trattato, è impensabile infatti assistere ad un così veloce susseguirsi di eventi quali la convocazione del Consiglio Comunale a fine agosto, l'integrazione dell'ordine del giorno, tre giorni prima della data del Consiglio. Totale assenza di concertazione con le parti politiche. Il comitato in due occasioni aveva sollevato pubblicamente le criticità contenute nelle linee guida al piano regolatore del porto, ponendo all'amministrazione comunale diversi quesiti che non hanno mai ottenuto risposta. Se il sindaco conclude la nota intende applicare il criterio amministrativo del silenzio assenso ai cittadini, qui è il caso di dire che è completamente fuori contesto. Nomari in risorto annuncia che si sta già muovendo al fine di percorrere tutte le strade possibili per opporsi all'atto approvato oggi. Gli studi che sono stati commissionati da questa amministrazione prima all'Università Core di Enna e poi alla società Envitec Progetti e Opere SRL, dichiara il sindaco, individuano nella costruzione dell'infrastruttura portuale, soprattutto nel prolungamento del molo di sopraflutto, la concausa principale dell'erosione costiera e dell'interramento portuale. Dagli studi sono emerse tre possibilità per mitigare questi fenomeni. La realizzazione di barriere rigide poste davanti al litorale che, però, andrebbero a deturpare l'ambiente. La realizzazione di barriere soffolte oppure la modifica della configurazione delle opere forane, accorciare il molo di sopraflutto e allungare quello di sottoflutto, per ristabilire l'equilibrio dinamico naturale riportando a Levante il materiale sabbioso eroso dalle correnti di Ponente. La proposta di rimodulazione è stata illustrata lo scorso 23 marzo nel corso di una manifestazione pubblica tenutasi al Teatro Comunale. L'approvazione in Consiglio Comunale delle linee guida per la redazione del PRP, che si precisa, vengono proposte dall'Aggiunta in coerenza con il documento di fattibilità delle alternative progettuali presentato alla comunità sanvitese il 23 marzo 2022, conclude il Sindaco Peraino, consentirà di affidare nell'immediato gli incarichi per la redazione del PRP, Piano Regolatore Portuale, e nel contempo di attivare le complesse procedure necessarie per l'affidamento degli incarichi di progettazione di cui ha finanziamento nei previsti perentori termini ministeriali. Ieri sarebbe andato in scena il rito dello sbarco sulla spiaggia di Cornino della Madonna di Cussonaci e c'era tantissima gente. Saranno stati due anni di pandemia o il diffuso bisogno di spiritualità oggi necessaria come non mai, ma ieri, sulla spiaggia di Cornino, ad assistere allo sbarco dell'effigie della Madonna di Cussonaci, c'era davvero tanta gente, tutti lì, per un rito antico che non ha perso nulla della sua capacità di fascinazione. Le barche a largo che, come in una danza comune, si avvicinano alla spiaggia, quasi cercando la via migliore per la proda in terra. La collaborazione di tutti i pescatori presenti al fine di portare in salvo la sacra effigie e quindi lo sbarco, tutto svolto con gesti codificati eppure sempre diversi e sempre al grido di viva la Madonna di Cussonaci. A chiudere la cerimonia sacra ma festosa i giochi d'artificio anche sul mare. Nei prossimi giorni il proseguo dei festeggiamenti che toccheranno anche Erice. Era due anni per la pandemia che c'è stata che non riuscivamo a fare questa iniziativa che è molto importante non dall'aspetto folgoristico ma dall'aspetto religioso che è una partecipazione sentita di migliaia di persone. È un evento davvero che richiama non l'intera provincia ma anche i cittadini fuori dalla nostra provincia. Questa rievocazione dello sbarco della Madonna di Cussonaci coinvolge davvero tutti. C'è un sentimento di partecipazione notevole. Tutti i sindaci dell'Agro di Cino, il sindaco di Trapani è davvero una grande partecipazione. Dopo due anni di pandemia a vedere tutta questa gente e appunto in occasione dei festeggiamenti della nostra santa padrona quindi Maria Santissima di Cussonaci che poi è la padrona anche di Erice. Sappiamo che prima dell'autonomia era Erice un unico comune e comprendeva anche Cussonaci e quindi dei festeggiamenti molto sentiti dalla comunità. Qua c'è un popolo, lo stesso sarà ad Erice e domani avremo anche la consegna delle chiavi alla nostra padrona Maria Santissima di Cussonaci e poi ci sarà la processione che si snoderà lungo le vie cittadine. Ma intanto siamo qua uno scorcio indescrivibile al tramonto in questo bellissimo mare quindi già suggestiva di per sé anche per chi non crede quindi tanta presenza anche di turisti che conoscono questo rito e che sono qui appunto a curiosare. Ma ci sono moltissimi fedeli ovviamente fondamentalmente è un rito religioso molto sentito dalle nostre comunità del lago di Cino tant'è che sono presenti tutti i comuni del lago di Cino così come lo saranno anche in questi due giorni prossimi ad Erice e quindi siamo ben lieti finalmente di riprendere questa fondamentale per noi insomma festività che è quella dedicata appunto alla Madonna di Cussonaci. A chiudere la cerimonia sacra ma festosa i giochi d'artificio anche sul mare nei prossimi giorni il proseguo dei festeggiamenti che toccheranno anche Erice. Ed oggi a Erice con la cerimonia dei primi Vespri entreranno nel vivo i festeggiamenti in onore della Madonna di Cussonaci domani la processione per le vie del Borgo Medievale. Con la celebrazione dei primi Vespri alle ore 19 nel Real Duomo di Erice presieduti dal Vescovo di Trapani Monsignor Pietro Maria Fragnelli alla presenza dei sindaci di Erice e dell'Agro inizia stasera la festa di Maria Santissima di Cussonaci custode e patrona degli Ericini. Nel corso della cerimonia ci sarà la consegna delle chiavi d'oro della Civitas Ericina. Le liturgie della solennità saranno animate dalla cappella musicale di Santa Maria di Campitelli di Roma diretta dal maestro Vincenzo. La cappella musicale è legata al culto del Santuario Mariano di Santa Maria in Portico in Campitelli a Roma dove è preservata l'icona della Madonna. Inoltre alle ore 21.30 sempre nel Real Duomo di Erice la cappella terrà un concerto in onore della Madonna il cui programma è ispirato all'antica antifona mariana su Tum Praesidium. Domani mercoledì 31 agosto giorno dei festeggiamenti in onore della Madonna di Custonaci alle ore 11 ci sarà la messa solenne presieduta dall'Arcivescovo di Agrigento Monsignor Alessandro Damiano. La cappella musicale di Santa Maria in Campitelli eseguirà musiche del proprio repertorio della Madonna in Gregoriano e musiche polifoniche di compositori contemporanei di ambito romano. Inoltre sarà eseguito nave Maria del compositore americano Drake che si ispira alla produzione di musica sacra romana. L'ordinarium sarà eseguito in canto gregoriano con brani della Missa Nona Cum Giubilo dedicata proprio alla Beata Vergine. Non mancherà infine l'esecuzione dei brani che il compositore torinese Marco Rosano vissuto ad Erice per alcuni anni ha composto in omaggio alla custode patrona l'inno Ave Stella del Mare e il Magnificat con la sua antifona Tutti i secoli mi diranno Beata. Alle 18 uscirà quindi in processione l'immagine della Madonna di Custonaci che ripercorrerà le vie del Borgo Medievale accompagnata dai fedeli e dalle notte della banda città di Paceco. Il rientro del quadro è previsto a mezzanotte dopo lo spettacolo delle fontane danzanti che si terrà a Piazza Matrice. Nuova rassegna per il luglio musicale trapanese si intitola Tramonti musicali a Torre di Ligny. Vediamo. Tramonti musicali a Torre di Ligny è il nome della nuova rassegna del luglio musicale trapanese. Si tratta di due concerti al tramonto che si svolgeranno nel piazzale antistante Torre di Ligny. Uno dei simboli della città di Trapani quindi farà da scenario oggi 30 agosto alle ore 19.15 a Gezza al tramonto con Grazia Buffa voce Franco Giannola pianoforte e tastiere Giuseppe Madonia batteria. Grazia Buffa La giovane siciliana è la vincitrice dell'edizione 2010 del programma televisivo di Rai 1 Ti lascio una canzone un'interprete talentosa che di recente abbiamo visto duettare con artisti come Massimo Ranieri Alessandra Amoroso Michel Bosè Gianni Morandi Emma Marrone e Marco Mengoni Il 7 settembre invece alle ore 19.15 sarà la volta di Folk al tramonto in collaborazione con l'associazione Bonagia Eventi e Promotion Laura Mollica canto e percussioni e Giuseppe Greco chitarra mandola e tamburo due artisti palermitani ci regaleranno un concerto dedicato alla tradizione popolare siciliana intitolato La Vucimia suite per voce e strumenti su frammenti della tradizione popolare siciliana Laura Mollica considerata l'erete spirituale di Rosa Balestrieri la cantante folco siciliana morta nel 90 a Palermo artista eclettico Giuseppe Greco sin dall'inizio della sua attività professionale spazia in diversi ambiti musicali grazie alle nati doti di sensibilità e d'utilità appuntamento oggi attore di Ligni per il primo dei tramonti musicali per gli appuntamenti su Teresud questa sera alle 21 poi in replica alle 23 andrà in onda Respubblica in studio ospiti ci saranno della prima parte Angelo Rocca e nella seconda parte Giuseppe Bica entrambi sono candidati all'assemblea regionale siciliana vi ricordo che si vota il prossimo 25 di settembre tra poco lo sport apriamo lo sport parliamo di basket si è tenuta ieri nella sala stampa del Palacona della presentazione della campagna abbonamenti 2022-2023 Palacanestro Trapani decimo capitolo è solo l'inizio è questo lo slogan della campagna abbonamenti 2022-2023 targata Palacanestro Trapani la squadra Granata infatti si appresta a disputare il decimo anno nella seconda serie del basket italiano la dodicesima sotto la presidenza di Pietro Basciano un campionato che prenderà il via il prossimo 2 ottobre ma già domani i ragazzi di coach parente scenderanno in campo alle 19 il Palaconad contro il Green Basket Palermo per la prima amichevole stagionale poi il 9 settembre si giocherà per la Supercoppa proprio il 9 settembre scaderà la prelazione per gli abbonati che potranno sottoscrivere l'abbonamento rimasto invariato nei prezzi rispetto alla scorsa stagione con uno sconto inoltre vantaggi anche per gli under 20 e gli over 65 iniziativa di quest'anno come comunicato ieri in conferenza stampa dall'amministratore delegato Nicolò Basciano e dal direttore generale Valentino Renzi i primi 100 sostenitori che sottoscriveranno l'abbonamento potranno trascorrere una serata a cena con i propri beniamini Granata insomma è tutto pronto non resta che sostenere i colori della propria città perché avere una squadra che milita in A2 è economia presenze promozione turistica non è solo sport stiamo lavorando bene stiamo lavorando tanto ancora una volta oggi lo abbiamo iniziato ieri questo nostro viaggio su un'analisi insomma fondamentalmente sul voto che vedrà il rinnovo dei parlamentari regionali e nazionali il prossimo 25 settembre e ci affidiamo anche oggi all'analisi del presidente di Telesud abbiamo scritto ieri senza troppe pretese ma con cognizioni di causa così come dimostrato in passato quali possano essere i papabili per un seggio all'assemblea regionale siciliana nel collegio trapanese Forza Italia PD 5 Stelle e prima l'Italia dietro di loro seppur tutto da dimostrare nelle urne il quinto papabile stremberebbe in favore di Fratelli d'Italia i meloniani schierano tre buone candidature il sindaco di Partanna Nicola Catania l'ex primo cittadino di Custonaci Peppe Bica e il deputato Sergio Tancredi l'ex grillino dovrà dimostrare di poter camminare sulle proprie gambe non facendo conto delle preferenze raccolte la scorsa tornata drogata dallo tsunami pentastellato il parlamentare uscente si è mosso per tempo confluendo inattiva Sicilia stampella di Musumecinaula anche nella sua città ha stretto importanti accordi politici tuttavia è da verificare l'effettivo risultato visto che Mazzara del Vallo ogni volta non si sa quanti voti dovrebbe riversare sui candidati locali anche quest'anno fermandoci ai più quotati sono una pletora Scilla Bianco Marino Ops Gancitano e lo stesso Tancredi Catania e Bica dicevamo hanno potenzialmente in pancia 4.000 4.500 voti ma il vero valore aggiunto sarà senz'altro a detta di tutti i commentatori il voto per le politiche questo inevitabilmente trainerà sulle regionali un voto di lista polarizzato sui simboli nazionali è assai probabile che loro così come i Dem gli azzurri i grillini e in minor misura la Lega quanto meno alle nostre latitudini fruitiranno di un importante voto di lista al netto delle preferenze sui candidati questo a discapito delle liste esclusivamente regionali in particolare delle due che sono discretamente attrezzate come DC e Popolari Autonomisti infatti è sicuramente attrezzata la lista che fa riferimento a Nino Papania l'ex senatore ha piazzato un buon colpo all'ultimo minuto strappando Mariko Hopps alla Lega che evidentemente non ha mandato giù l'operazione Turano coordinata direttamente a Roma su insaputa l'eterna promessa sovranista dovrà adesso dimostrare il proprio peso elettorale e non è affatto detto che sia massiccio a iniziare dalla sua città dove addirittura dovrà competere con un altro candidato della stessa lista Giuseppe Bonanno poi due ottime candidature Enzo Studiano presidente del Consiglio Comunale di Marsala che ha sempre dimostrato nelle urne il suo peso elettorale quantomeno su Marsala e il coordinatore di via Angelo Rocca che ha l'imprimatur del suo leader e potrà contare sui voti del movimento sul territorio in particolare su Trapani Buona anche la lista di Totò Cuffaro l'ex governatore ha costruito un progetto che mira a riesumare i nostalgici della democrazia cristiana in Sicilia aprendole a figure provenienti da altre esperienze politiche è il caso dei due principali candidati in corsa Peppe Guaiana presidente del Consiglio Comunale di Trapani e l'ex sindaco di Alcamo Giacomo Scala gli altri nomi però oggettivamente non sono dei grandi raccoglitori voti 2-3 mila voti al massimo Fragancitano e la Ventimiglia Castelvetrano addirittura si è dovuto ricorrere a una quota rosa esterna Serafina Marchetta Agrigentina moglie di Decio Terrana segretario regionale dell'Udc o di ciò che ne resta premiata da Schifani con l'inserimento nel listino insomma un'aliena sul territorio in pratica se due faranno il botto di voti nell'ordine di 10.000 preferenze in due allora avranno una speranza altrimenti la nuova DC resterà alla finestra nonostante assai probabile che supererà agilmente lo sbaramento del 5% a livello regionale infine Cateno De Luca il massaniello messinese ha nella sua personalità dirompente la forza elettorale e tutti i sondaggi lo danno bene come candidato presidente provincia per provincia la musica cambia è difficile che il solo nome sul simbolo possa addirittura trainare candidati non conosciutissimi tanto per restare alla provincia di Trapani fino a far scattare un seggio l'ex sindaco di Campobello di Mazzara Daniele Mangiaracina e tanti giovani volenterosi oggettivamente poca cosa almeno sulla carta ed anche per lui la polarizzazione del voto nazionale avrà certamente un peso grazie a tutti grazie a tutti